ciao a tutti oggi vi farò vedere una ricetta molto particolare che sarà della carne in scatola praticamente faremo della carne in barattolo ed è buonissima senza grassi aggiunti senza sale senza niente dura oltre un anno ed è veramente fantastica l'ho provata e vi assicuro che vale la pena fra l'altro la preparazione facilissima è solo la cottura che molto lunga perché ci vorranno cinque ore ma fa tutto da solo perché mettiamo la carne nei vasetti insieme alle spezie e poi dovranno solo cuocere dentro l'acqua cominciamo vi do gli ingredienti ma innanzitutto vi dico che ci vorranno dei vasetti ben puliti e con i tappi nuovi io utilizzo 4 kg di carne e di maiale mista un po di lonza un po di coppa poi ci vorranno un bel po di spicchi d'aglio dell'alloro un bel po di pepe nero in grani se vi piace il piccantino anche lui il peperoncino e poi il nostro mitico ingrediente segreto al lavoro in ogni barattolo mettiamo una bella foglia di alloro dei grani di pepe e uno spicchio d'aglio e per chi piace il piccante anche il peperoncino poi cominciamo ad inserire la carne a mano a mano che inseriamo la carne nel barattolo dobbiamo testarla schiacciarla quando il barattolo sarà riempito a metà aggiungiamo dell'altro pepe nero e se vi piace anche il peperoncino poi continuiamo ad inserire la carne schiacciandola come vi ho detto prima un trucco le parti di carne più grasse lasciatele in cima al barattolo perché poi si scioglieranno e formeranno un tappo il barattolo deve essere riempito ma lasciare un centimetro prima di arrivare al coperchio ma prima di chiudere il nostro barattolo una volta che pieno aggiungiamo lui il nostro ingrediente segreto e ora possiamo chiudere il nostro vasetto in una pentola bella alta mettiamo uno strofinaccio sul fondo e poi inseriremo i nostri barattoli e ora aggiungiamo dell'acqua fino praticamente a coprire i barattoli e adesso foca le polveri portiamo a ebollizione e faremo cuocere 5 o 6 ore stando attenti che non evapori l'acqua se evapora ne aggiungiamo ancora un po a questo punto il nostro lavoro praticamente è finito dobbiamo solo aspettare aggiungete sempre l'acqua in modo che i barattoli non rimangano scoperti adesso che il tempo è scaduto spegniamo il fuoco e lasciamo raffreddare i barattoli dentro la pentola li toglieremo solo quando si saranno raffreddati totalmente e visto che bisogna aspettare si raffreddi vi svelerò l'ingrediente segreto sono dei chiodi di garofa non ne basterà uno per barattolo ed eccoli qua tre degli otto vasetti che sono venuti fuori guardate che meraviglia fra l'altro il grasso si ferma in superficie così quando lo aprirete basta toglierlo e mangerete una carne saporitissima ma magrissima se volete ricevere le mie ricette in anteprima ricordatevi di toccare la campanella ed iscrivervi al mio canale mi raccomando condividete il video con chi ha bisogno di perdere peso e se vi va regalatemi un like ciao alla prossima ricetta